Restiamo in tema nel Basso Molise, primi guariti dal contagio, ma l'attenzione resta alta in un'area tra le più dessamente abitate dell'intera regione. Sono tre i pazienti di Montenero di Bisaccia che dopo alcune settimane di ricovero sono finalmente guariti dal coronavirus. Visto il numero crescente di esami diagnostici realizzati negli ambulatori privati per rilevare l'eventuale contagio da Covid. L'amministrazione comunale suggerisce di informare in tempo utile il primo cittadino, Simona Contucci, nel caso in cui ci dovessero essere altri casi positivi. Il litorale adriatico del Basso Molise, da Termoli fino a Larino, è stato investito in pieno sin da marzo dalla diffusione del contagio. Anche in questa seconda fase della pandemia il coronavirus non ha risparmiato le numerose comunità che gravitano attorno alla città di Termoli, con il risultato di molti contagiati, alcuni decessi e diverse attività scolastiche dell'infanzia, primarie e medie, sospese temporaneamente.